Mi chiamo Carmine, sono affetto da polio che ho contratto all'età di dieci mesi e oggi ho quasi 60 anni. Fino a poco tempo fa ho utilizzato dei tutori di tipo tradizionali. All'incirco ad aprile dell'anno scorso sono stato contattato dalla Ottobock di Budrio per la presentazione di una nuova ortesi che nel momento in cui ho avuto il piacere di provarla sono rimasto effettivamente molto molto colpito e quindi molto anche molto soddisfatto. La prima volta che ho avuto il piacere di provare il Seabraise non è stato semplicissimo perché c'è stata la necessità di dover intervenire con diversi accorgimenti affinché potessi utilizzarlo. Superate le difficoltà che inizialmente mi si presentavano e appena ho avuto la sensazione di poterlo utilizzare ho deciso immediatamente di dotarmene perché ho ritenuto, ho pensato subito ai benefici che avrebbe potuto procurarmi. I benefici sono sicuramente tantissimi e non riguardano solamente l'estetica, nel senso che la postura, il modo di... ma è una sensazione più complessiva che prende sia la postura ma anche la sensazione interiore che è quella che fa riferimento alla normalità. Una normalità sicuramente che è già carica della patologia. Avere la possibilità di poter andare in estensione con la gamba oppure potersi muovere con maggior disinvoltura, affrontare pavimentazioni di tipo sconnesse, la pavimentazione delle cittadine, delle vie cittadine. Così come fare anche altre attività sportive, andare in palestra, seguire, continuare con qualche hobby che avevo in passato e che utilizzavo facendo leva su altre risorse, oggi anche in questo modo qui non solo non incontro particolari difficoltà, ma mi vengono anche più semplici. Io sono convinto che il Sibrese possa effettivamente condizionare in maniera positiva la vita delle persone che sono affette da una patologia simile alla mia. Grazie.